Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi, il canale è MaxiMilk e per sempre resterà MaxiMilk, almeno fino al nuovo ordine ragazzi, ebbene sì allora, questa mattina dopo presso a poco 15 giorni di ban da Youtube mi hanno riattivato, bella storia ragazzi, tutto contento che mi hanno riattivato dico meno male, mi hanno riattivato, buono senza eliminare la segnalazione e comunicazione alcuna al che prendo e dico va bene, cercheremo di fare attenzione e vado a pubblicare il video che ho pubblicato ieri ragazzi il video che qualcuno di voi avrà visto il video era come passare le auto ad un vostro amico niente di che ragazzi un video, solito video diciamo, un solito video di gameplay, un solito video comune anzi, con una particolarità ragazzi, quel video conteneva anche una traccia audio che ho realizzato io quindi non poteva essere una violazione fatto sta che, come alcuni di voi già sapranno mi è stato chiuso il canale Youtube allora, adesso io voglio dire solo una cosa grazie al simpatico testo di cazzo che mi ha fatto chiudere il canale, non c'è problema continuerò ad andare avanti anche senza il canale di Roma questo lo faccio per i miei iscritti quindi chiunque voglia riscriversi a questo canale sicuramente ho perso tantissimi iscritti ma non mi interessa se qualcuno avrà voglia di rientrare a far parte del mio canale questo è il mio canale e quindi andiamo avanti si va avanti ragazzi si continua ad andare avanti non pretendo di arrivare a 500 iscritti in un mese insomma no, assolutamente però ho visto la vostra partecipazione in 15 giorni più o meno siamo arrivati a 80 iscritti io nell'altro profilo erano 6 mesi che lo avevo attivo eravamo arrivati a 576 iscritti adesso dico solo una cosa mi rendo conto che se vogliamo possiamo farcela tutti insieme ragazzi possiamo comunque continuare a far crescere questo canale in maniera tale che che diventi sempre più grande insomma e niente ragazzi questo è quello che volevo dire un grazie a tutti per continuare a seguirmi e per chi vorrà continuare a seguirmi questo è il colore della settimana ragazzi si, questo viola del cazzo è il colore della settimana no, è un viola un viola abbastanza particolare abbastanza brillante a me piacciono i colori accesi quindi questo viola del cazzo come l'abbiamo chiamato è il colore della settimana che potete trovare nella mia gris secondaria per tutta la settimana fino a giovedì prossimo e potrete liberamente metterlo a vostro piacimento quando vai va come vai va potrete entrare potrete uscire potrete fare tutto quello che vuoi allora nella descrizione del video lascerò il link della mia gris secondaria vi lascerò anche il link del video che mi è stato segnalato sul canale Le Ligri di Roma in maniera tale che voi possiate rendervi conto e qualcuno che non mi venga a sparare cazzate e dire ah ma no ma c'è un robot no tutte cazzate questo è lo stronzo che segnala comunque va bene intendo chiudo questo discorso qui perché non me ne frega un benemerito cazzo lui ha fatto la segnalazione bravo gli auguro tutte le più belle cose della vita cioè non è che io vivo di youtube mi fa chiudere un canale no io riapro tranquillamente è come un negozio quindi si va avanti ragazzi allora quello che voglio dire è un'altra cosa ragazzi ora sto organizzando un evento tuning in cui le iscrizioni si sarebbero dovute chiudere oggi ma alcuni secondo me non hanno né letto né capito il regolamento perché alcuni continuano a chiedermi ah ma voglio partecipare con l'auto di lusso o altre cazzate varie allora ragazzi nella pagina dell'evento c'è una lista di auto che possono partecipare quelle che non rientrano nella lista non possono partecipare sempre nella pagina dell'evento c'è un regolamento che dice di presentare l'idpsn ma fino ad ora sono stato sempre io a contattare mi piacerebbe che magari un minimo di collaborazione poi si iscrivono persone che comunque giustamente hanno xbox e non possono partecipare allora lì siamo arrivati a 37 iscritti stando a 37 iscritti tra cui 5 sono i giudici quindi non andranno a gareggiare poi molti pur avendoli contattati non mi hanno inviato il loro psm quindi io non so come rintracciarli sì e no se arriveremo a 25 partecipanti a me piacerebbe che condivideste questo evento se vi fa piacere in maniera tale che riusciremo ad arrivare a 50 partecipanti e poter organizzare questo evento a me piacerebbe organizzare questo evento anche perché a me piacciono le macchine con me piace il tuning e tutto il resto e penso che comunque anche con le auto non di lusso ci sia una buona possibilità come state vedendo per esempio io ho la Sultan è una bella auto per fare il tuning e tutto il resto quindi comunque ragazzi un pochino di collaborazione se volete che questo evento si farà io lascerò altri 4-5 giorni di tempo per diciamo per iscriversi a questo evento dopo di che sarò costretto comunque a non fare l'evento perché ho detto un minimo di 50 persone ma nulla ragazzi questo è il canale adesso principale per questo video è tutto ragazzi al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.